Buon pomeriggio a tutti e grazie per aver aderito a questo nuovo webinar. Oggi affronteremo una tematica molto discussa, l'esame di terza media, le cui modalità sono cambiate parecchio negli ultimi anni. A fare un po' di luce sull'argomento ci aiuteranno la professoressa Barbara Bonetto, che saluto, docente e vice preside presso l'Istituto Giusti ed Assisi di Milano, e la professoressa Natalia Cancellieri, che saluto, docente presso l'Istituto Morosini e di Savoia di Milano. Sono entrambe coautrici di Enganchados e prima di cedere loro la parola do ai partecipanti giusto qualche istruzione. L'attestato di partecipazione e la presentazione del webinar saranno disponibili da domani sul sito della casa editrice alla pagina Attestati. Per chi volesse accedere allo streaming indifferita, l'attestato sarà disponibile solo ai partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di conferma di iscrizione entro la mezzanotte di oggi. Il video resterà comunque disponibile sul nostro canale YouTube. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande in chat e al termine del webinar le professoresse risponderanno. Lascio subito la parola a loro, grazie e a dopo. Buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Benvenuti. Vamos a hacer esta charla, a dar questa charla in spagnola. Grazie per essere qui. Estamos seguri di che il tema del examen di dell'attestato che concluye il primo ciclo di insegnanza in Italia. È un tema in questo periodo, soprattutto, molto attuale. E iniziamo con la presentazione, reflexionando un po' sobre quale tipo di examen va a presentarsi questo anno per tutti noi che lavoriamo nella scuola secundaria di primo grado. Credo che sia il terzo anno, correcto? Sì, perché fu l'anno passato e l'anno 2020, che nessuno va a olvidare. Può essere il terzo anno in cui non avrà una prova scritta di lingua extranjera, tanto di inglese come della seconda lingua comunitaria. Quindi, ciò che ci ha avuto, è riflessione un po' sobre una tipologia di examen che può parecerse alla della delle, sia le, cioè tutti quei examen che certificano un certo dominio e un certo livello della lingua extranjera. E, a juzgar per la ordinanza ministeriale, che siamo sicuri che tutti voi e tutte voi conoscezate, perché è arrivato già hace quasi un mese, sì, ci sembra che ci conferma questa direzione. È a dire, la lingua, il livello, diciamo, di competenza della lingua extranjera, tanto per il inglese come per la seconda lingua, deve essere averiguata e testata durante la entrevista, il colloquio orale del examen di Stato. Perdonarei un po' questo passare dal italiano al spagnolo, ma in nostra presentazione abbiamo insertato alcuni documenti e alcuni che, evidentemente, sono in lingua italiana. Per esempio, abbiamo tornato a prendere le indicazioni nazionali del anno, già leggi, 2012, in cui abbiamo trovato i obiettivi finali del livello di lingua extranjera per la seconda lingua comunitaria, che corresponde a un livello A1. E questo non abbiamo mai bisogno di esqueci, è a dire, un livello A1 che, evidentemente, vale per tutte le secondi lingue comunitarie che si imparano, che si studiano in la scuola media italiana. E per il spagnolo, magari, può sembrare un pochino bassi, una A1. Quindi, normalmente, tutti i professori e le professori soli arrivano, magari un pochino più allà, quasi a una A1, plus, a una A2, eccetera. Però, realmente, il livello prescrito per queste indicazioni è una A1, e nella parte che vedete subrayata in amarillo, possiamo volvere un momento un pochino, se possono vedere, realmente, le capacità che deve arrivare a lavorare a cada uno dei nostri studenti. Comunicare oralmente in attività che requiere un intercambio di informazioni molto semplici e molto diretti sobre temi familiari e abituali. O, tiene che saber descrivere di forma oral, e scritta anche, però ora per per lo che si riferi a nostro examen di questo anno, solo oral, di maniera simple, aspecti di loro propria vivenza e di loro proprio entorno. Perché abbiamo insertato le indicazioni nazionali? Perché abbiamo, perché abbiamo molto tempo lavorato nella scuola media, che normalmente, in cui ci sono i nostri examenzi orali, di tutte le asignature, dove si inserano i examenzi di lingua extranjera, c'è una pratica, da hace molti anni, che non si corrisponde tanto al livello che, in teoria, i nostri studenti devono avere. Beh, qui abbiamo anche i nostri obiettivi di aprendizaggio dividiti in le abilità lingüistiche. E per lo che si riferi al parlato, che è così come si chiamano la interazione oral in le indicazioni nazionali, troviamo alcuni descrittori che ci devono parlare di intercambi orali, interazioni orali, dove i temi sono relazionati con il entorno, la quotidianità e le vivenci dei nostri studenti. Estava parlando di una pratica che abbiamo avuto anni e che tanto Barbara come io abbiamo anche avuto l'opportunità e la sorte di mettere in pratica. e è la di chiedere a nostri studenti che trate alcuni temi di civilizzazione, per esempio, di civilizzazione hispannica, in nostro caso, a lo mejor relacionata con i temi di, un elaborato, una tesina e altre cose che che si trate in un examen oral. Quindi tutto questo, sobra quasi dicerlo, tiene molto poco a vero con il livello che si supone devono tenere i nostri studenti. E aggiungerò anche che presuppone un tipo di interazione non molto autentico. Es decir, un parlante della lingua española con un nivel A1 è molto difficile che in sua vita se encuentre in la situazione di parlare con nativi hispanohablanti di cultura hispannica. è a dire, questo è un tanto impossibile. La ragione per la quali in questi ultimi anni, diciamo a partir del anno 2020, però anche antes, è a dire, quando ha cambiato un po' il examen e si hanno aggiungato le due pruebas escriti, abbiamo iniziato a cambiare un po' la maniera di testare la lingua española in nostri studenti e abbiamo lasciato un po' di lado tutto quello che si referia a presentazioni sui temi di cultura e di civilizzazione. Adesso, per approfondire il tema che stava parlando Natalia, qui abbiamo inserato alcuni descriptori a causa del volumente complementare che pubblicarono nel 2021, il volumente complementare al marco come un europeo di referenza, per approfondire la lingua, dove in una seczione relacionata con la se llama expresione, hablando di interazione e di produzione oral, abbiamo sacato alcuni descriptori di nivel 1 sobre, per esempio, monologo sostenido, dove un alumno sta in la condizione describire la lingua o monologo sostenido, situazione di dare informazione e qui vuole sempre vita diaria, frasi sencilli, descrizione sencilla, informazioni personali, parlare della famiglia e della scuola, lo che subraya questo volumente complementare è che noi a lo largo di tre anni lavoriamo con competenza comunicativa al rededore di un nivel che tratta temas e situazioni dialogiche dentro di un contesto e va a essere un poco, diciamo, difficile e incoherente al final del ciclo pedirles, per esempio, che ellas stanno in condizione di argomentare o parlare di un tema di cultura e civilizzazione. Per esempio, parlando anche della conversazione che è lo che si può desarrollare dentro di quello che si chiama collocchio, la conversazione deve essere basata in preguntas sencillas, breves e con una lingua clara parlando qui anche il volumente complementare per esempio parlando su paese, su famiglia, la scuola, descripciazioni sobre si mismo, sobre una persona quindi è importante non perdere il obiettivo. Noi lavoriamo per obiettivi e al final dei tre anni è importante sapere che lo che le vamos a pedir ai nostri studenti sia coerente con tutto il processo di insegnamento che abbiamo avuto che abbiamo avuto. come possiamo fare tutto senza morire in l'intento, sicuro che durante questo webinar trateremo anche il tema di civilizzazione perché vediamo nel nostro manuale sicuro che abbiamo presentato un tema di cultura o qualcosa di civilizzazione hispana. quindi quindi però vediamo come se può fare il nostro punto di vista è produrare podcast map simulati utilizzare documenti autentiche e con situazioni di risposta o parole che può fare facilità a avere una interazione o sostener un monologo perché lo hanno preparato in la diapositiva anterior qui dice per esempio monologo sostenito sempre che possiamo preparare o di antemano quindi noi dobbiamo lavorare la preparazione della interazione oral o la presentazione parlare in pubblico intercambiare informazioni e ci sono alcuni esempi di podcast map o dialogo che possono presentare e che possono realizzare questo podcast questo può essere un sopporto utile per la produzione oral per esempio qui abbiamo un mapa che parla del viaggio e per esempio questi studenti hanno una question un mapa visual può essere un material inclusivo perché che può descodificare con facilità e tutte queste cose che in classe con il studente con il professor possono parlare di un tema che per esempio con un viaje personal quindi dove hai stato dove sei dove dove sei sei cosa che può per esempio parlare una experiencia personal dando informazioni personali a uno e just tutto questo deve essere preparato accompagnato per parte del professor però per esempio se abbiamo trattato o abbiamo trattato il passado il pretérito indefinito se può ampliare il tema per esempio che in questo caso parlando del pretérito indefinito è parlare del passato che in questo caso è un viaggio però sempre dandole algunas domande e il mapa può essere un instrumento utile altro tipo di proposta può essere la descrizione di una imagen e al lato quasi una nube di parole per descrivere la immagine video fotos amigos mirar internet navegar móvil habitazione mensaje anche prima di una idea si salen alcuni 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 che tipo di posicione la foto ha 4 chicos un lavoro gli I ragazzi stanno in una abitazione, stanno in cima della cama, stanno in postura corporale, sentati, tombati, di piedi. Quindi, se volviamo a la immagine, possiamo vedere che ci sono 5 ragazzi che stanno tombati in una cama e il aspecto fisico. Due sono moreni, una è rubia, il chico castaño sta a la direzione e facendo ipotesi. Che stanno facendo, stanno mirando il modo e, secondo te, stanno chateando, stanno scrivendo un messaggio. Toda questa domanda, tutto questo tipo di preparazione è necessario, se vogliamo che, per esempio, nostri studenti arrivano al examen capace e con la possibilità, per esempio, di scrivere una immagine. In questo caso abbiamo una immagine abbastanza simple. Per questo sì che è un tipo di tarea che durante il examen ci può dare la impresione se un chico, dopo 3 anni, è capace di, per esempio, nel caso anterior, parlare di una esperienza personal, un viaggio, o di scrivere una immagine. E queste domande che abbiamo qui sono molto utili e possono essere applicate a altre foto, anche foto personali, o foto che hanno trovato in un periodico o in un libro. E questo tipo di, dal mio punto di vista, questo tipo di lavoro va a essere anche motivato, perché gli studenti possono elegire una immagine che le piace e scogli le parole, la maniera di describirla. E ti passo la parola a te, Natalia, perché anche qui abbiamo altre due immagini. Sì, 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 magari mi gustaría aggiungere che le parole che le ha insegnato Bárbara, che le ha insegnato Bárbara, che le ha insegnato Bárbara, anche le sono basate e un po' ritornate e inspirate in realmente le testi del DL, del Diplomamento del Español come Lengua Extranjera. Questo per che anche potete avere la idea di dove si possono buscare più referenze. In questo webinar noi intenteremo darvi idee, sugerenze, per che, in questo examen di questo anno, potete provare questo lavoro, e ci vorrei saperelo, se volete scrivere in il chat, non c'è nessun problema, magari già lo abbia esperimentato, però se non è così, stiamo intentando darvi sugerenze, con le immagini, con le immagini, con le immagini, però diciamo che il punto di referenza principale è realmente il dei testi di certificazione del l'español come Lengua Extranjera e anche di altre Lenguas Extranjeras. E queste immagini che le facciamo del volume del curso, in cui collaboriamo, Bárbara e io, precisamente abbiamo guardato la parte sobre il examen, una serie di unità sobre il examen, e ogni unità aveva un tema, un tema relacionato, in questo caso, non tanto con la civilizzazione, con temas di civilizzazione hispannica, sino con un tema di educazione per la cittadinanza, che sono sicura che già avete adivinato qual è, è dire, l'educazione medioambientale. Quindi qui abbiamo scogito un par di immagini, una, simplemente la di a la izquierda, è una foto di alcune persone, un chico, giusto davanti, e poi altre persone che recogono basura, desechi, eccetera. La altra è una elaborazione che si è fatto in una scuola espanola, in un bachillerato, e erano un'eurore elaborazione di pintura famosa con il tema di residuos e la recogida selectiva, eccetera. Quindi, la idea che veniamo desarrollando desde hace unos anni, Barbara e io, come preparazione al examen, è di preparare a nostri studenti a través di attività, di unità temattica, per che poi potano poi expresarsi nel examen a partir di materiali che già hanno utilizzato. Per esempio, potrebbero essere queste foto, o la anterior, è dire, le facciamo tratando a lo largo del terzo anno, e poi nel examen se la volviamo a proponere, perché così, ademais, evitiamo lo che può essere veramente molto in comodo per tutti, tanto per noi come per nostri studenti, è dire, che si restano un po' parati debido a la tensione, e invece sempre abbiano un materiale in cui appogliarsi. E qui, nella diapositiva siguiente, anche abbiamo sei domande, che tipo di immagini che hai, dove sono molto parecita a le domande le domande anteriore. Qui, realmente, lo che queriamo fare con queste domande era proporcionare un modelo, un patrón. Perché? Este tipo di domande se possono utilizzare con qualche immagine, realmente sacadas, come dice Barbara, di una rivista, di un manual, di la red. Poi essere, per esempio, non sei, io a mis alumnos este anno di terzo les propongo llevar un'immagine personali, io che se, di quando erano piccoli, di su animal favorito, di sus prendi favori, eccetera, e si possono commentare a partir di esas immagini, no? E qui podéis ver a partir de las de las preguntas como se puede estimular una produzione oral sobre temas que realmente se pueden reconducir a un nivel a uno, no? Que hay la diferencia de discriminazione entre ahí están, como son el aspecto físico, también pues siempre hay una pregunta, esto siempre en los exámenes DELE, por ejemplo, sobre de hipótesis, no? Que crees que es o que como crees que son de, por ejemplo, sobre los chicos de la imagen anterior, no? Como crees que son de carácter, etcétera. y esto realmente nos da la oportunidad de que nuestros alumnos saquen y muestren realmente sus competencias y lo que decía Bárbara lo comparto perfectamente, creemos realmente que para nuestros alumnos también sea más satisfactorio este tipo de examen porque realmente pueden mostrar lo que saben. En cambio, pues, con la presentación de civilización sobre Latinoamérica o sobre Frida Kahlo o sobre Pablo Picasso que también sigue teniendo un valor pero realmente da menos la oportunidad de mostrar las reales competencias de nuestros alumnos sobre todo, añadiría, para los más frágiles. Y también en la unidad que hemos cuidado en el volumen enganchados había un pequeño mapa aquí tenéis la digamos de las indicaciones, la consigna de lo que de lo que se podía hablar sobre el medio ambiente. Entonces, esto sería si pensamos en los indicadores en los descriptores que hemos puesto al principio y que os ha explicado Bárbara del nivel a uno este sería un monólogo sostenido a partir de un mapa los chicos los alumnos hablan de un tema en este caso un tema de educación para la ciudadanía pero siempre intentando que este tema se ancle en sus propias vivencias en su experiencia personal y entonces aquí en este mapa podemos ver por un lado si los problemas relacionados con el medio ambiente pero sobre todo a la izquierda y a la derecha del círculo central vemos preguntas como ¿qué hago yo para salvar el planeta? ¿qué hago ya? ¿y qué más puedo hacer? entonces aquí se puede desarrollar un tipo de trabajo que realmente les pida meterse en juego meterse en juego personalmente de una forma personal y le paso la palabra a Bárbara para que pueda presentar los productos de sus clases si porque por ejemplo si la consigna es al final preparar una breve presentación para hablar de tu relación con la ecología aquí tenemos primero una presentación que realizaron me parece el año pasado algunos estudiantes que es una presentación no Google que se titula Libérate del plástico y en esta presentación por ejemplo la idea era realizar una campaña para reducir el uso del plástico salen también los apellidos de mis alumnas y bueno la idea era empezando por lo que yo ya hago lo que se puede hacer concretamente cada día en esta presentación a los estudiantes realizaron una nube de palabras con las palabras claves relacionadas con por ejemplo los residuos y entonces y el tema de la ecología contaminación solución limpieza papel después dos imágenes la idea era describir la primera imagen que se titula futuro con plástico y la descripción de una imagen bastante parecida pero que se titula futuro sin plástico y la descripción de la imagen la realizaron a través por ejemplo de las preguntas que hemos visto en las diapositivas anteriores cómo reducir el plástico la diapositiva siguiente le da la posibilidad por ejemplo de explicar concretamente qué se puede hacer con frases simples de manera bastante digamos comunicativa también porque esa diapositiva no solo es simple sino que también está sacada de su propia realidad y esto es uno de los de las tareas que os propongo la otra en cambio es una gemboard yo no sé si vosotros en vuestra escuela usáis google pero dentro de las aplicaciones de google existe la gemboard y a través de la gemboard lo que se puede hacer es crear en este caso tenemos casi como una pizarra vosotros la veis ahora no la pizarra aquí es aquí está perfecto la gemboard es una pizarra digamos donde por puntos los alumnos han escrito en cinco puntos que podemos hacer para reducir el plástico entonces dentro de la campaña liberate del plástico alguno ha realizado algunas presentaciones otros simplemente lo han puesto por puntos y a través de una herramienta así bastante simple los estudiantes han podido elaborar una breve presentación producción oral y también interacción porque le hice también algunas algunas preguntas si podemos volver a la presentación perfecto muy bien muchas gracias ahora antes de digamos concluir estos ejemplos hemos puesto lo que normalmente o lo que se ha hecho en los años o sea hablar de un tema de civilización relacionado con hispana america que has estudiado a lo largo del curso esto lo ha dicho natalia bárbara perdona que te interrumpa porque veo que hay unas cuantas preguntas precisamente sobre este tema entonces yo te las voy leyendo porque realmente creo que se vuelve también más dinámico nuestro webinar y están precisamente centradas sobre este tema hay alguien un profesor que dice que afortunadamente nos agradece que hablemos de esto y que él nunca lo nunca pedió a sus alumnos temas de tesina relacionados etcétera sí ahí está y en cambio pues sí Ana María Antonacci pregunta pues la idea sería no relacionar el tema general de la entrevista con el de civilización hispana pues sí la idea sería precisamente esta y también lo era un poco antes del COVID también porque si realmente las indicaciones nacionales piden un nivel a uno es un poco lo que venimos diciendo al principio no pues no en una uno no está contemplado hablar de menos además de temas de civilización hispánica a lo mejor quizá un alumno con un nivel a uno o una dos casi tal podría hablar de sus propios temas de los temas relacionados con su propia cultura pero no conocer los temas de la cultura ajena sí de la lengua meta sí pero hablar de ellos es muy muy difícil que ocurra en la realidad y un tema que propone la misma profesora que he citado antes era que sí que sería aconsejable realmente proponer la misma tipología para los dos idiomas en mi instituto hemos tenido que luchar pero más o menos lo hemos conseguido aún así y ahora Bárbara os va a mostrar porque realmente sabemos que no es tan simple yo sobre todo con las colegas las compañeras de la primera lengua de inglés digamos he tenido que discutir bastante para que llegáramos un poquito a entender realmente cuál era el objetivo de este coloquio entonces pues la exposición en lengua inglesa sobre Martin Luther King me parece fenomenal pero quizá realmente nos muestra mucho menos competencia lingüística en nuestros alumnos que yo que sé a lo mejor comentar una imagen y describir una imagen y sí hay que hay que realmente habría que llegar a la misma al mismo tipo de prueba por ejemplo a través de la imagen de Martin Luther King que está haciendo su famoso discurso a través de esta descripción los estudiantes sí que pueden llegar a darnos algunas informaciones sobre el discurso de Yavedri pero que lo aprendan de memoria los datos biográficos de Martin Luther King de su vida el discurso y todo eso es una prueba de memoria es una prueba de conocimiento y no de competencias comunicativa por eso que como estaba diciendo Natalia hay que luchar porque a veces lo de no hablar de un tema de cultura o de un tema relacionado con otras asignaturas para que el estudiante pueda mostrar su capacidad de relaciones interdisciplinarias pero la realidad es que no solo es que tiene un nivel a uno también la capacidad de argumentar es un nivel que llegan en su propia lengua en una lengua extranjera tanto en español como en inglés que lo hemos dicho antes no existe el descriptor no existe porque no está previsto dentro de una situación comunicativa va a ser muy difícil y por ejemplo volviendo a la presentación pero yo también ya empezaron la semana pasada los estudiantes decían bueno que me gustaría hablar del cine a ver en español yo puedo hablar y los estudiantes empiezan con preguntas podría sacar el tema de Che Guevara hablando de Cuba en geografía esto me imagino que en todos los colegios va a pasar y entonces nosotras cuando colaboramos hemos colaborado en Enganchados Bulmen 3 la sección que se titula Hacia el examen hemos pensado pues muy bien a lo largo del libro a lo largo del curso aparecen temas de civilización entonces podría ser preparar una breve presentación sobre un tema que pero se ha tratado durante el curso significa que desde un punto de vista también lingüístico nosotros hemos leído hemos escuchado hemos visto le hemos hecho preguntas es algo que han trabajado con nosotros y una idea podría ser que esta página por ejemplo propone algunos temas que a lo largo del curso en Enganchados a través de lecturas o de en algunas páginas salen Frida Kahlo Rigoberta Menchú las Islas Galápagos entonces la idea podría ser de pedirles dentro del manual de encontrar cuáles son todos los temas y de apuntar informaciones sobre por ejemplo fechas palabras claves añadir información quitar informaciones hacer que realicen por ejemplo un trabajo de búsqueda de análisis donde por ejemplo una competencia que le pedimos de desarrollar es de sintetizar de encontrar informaciones pero también en este caso nosotros tenemos que guiarlo podemos decir pues si Cuba me parece muy bien Che Guevara me parece muy bien o la guerra civil me parece muy bien ese tema es un tema que seguro hemos trabajado a lo largo del curso y a la hora de ser el objeto el argumento el asunto de su examen ellos también tienen que reencontrarlo manejarlo para en este caso realizar aquí tenemos esta foto esta imagen pero una alternativa podría ser el Padlet Padlet es una herramienta digital para lo que para todos vosotros después de la didáctica a distancia seguro es una herramienta que conocéis pero si no lo conocéis el Padlet es una herramienta no sé Stefano si lo puedes enseñar por favor donde un poco como lo hemos hecho aquí a través de las imágenes los chicos lo que pueden hacer es aquí 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 esto podría ser sí lo vais a ver sí ahora se ve ahora se ve entonces a través del Padlet los chicos pueden buscar una imagen una imagen bonita pueden por ejemplo ponerle informaciones palabras claves ese es un Padlet que tiene que ver con otro argumento pero la idea es que si en el libro no sale una página como la que nos hemos enseñado antes con las fotos si ya un trabajo hecho lo que ellos pueden hacer es crearse su propio Padlet con los temas de civilización que se han tratado a lo largo del curso luego si Natalia tú quieres añadir informaciones sobre sí este Padlet lo hicimos con unos alumnos de segundo el año pasado era sobre las reglas de COVID en nuestra escuela es un tema el COVID supongo que también quienes están presentes lo han tratado lo mejor y no simplemente quería añadir me parecía muy interesante lo que decía Bárbara sobre la búsqueda de información porque realmente hay que guiar a estos chicos preadolescentes nativos digitales que no tienen ni idea de cómo se realiza una búsqueda bien hecha en internet entonces el Padlet es una digamos un contenedor que es muy eficaz ¿no? de hecho hemos puesto este enlace tan solo para mostraros para quien no lo conociera el tipo de parecen unos tablones de anuncios un muro como el de Facebook entonces donde se puede estimular también la digamos la escritura colaborativa y trabajos colaborativos más en general pero también como decía Bárbara para recoger algunos temas y revisarlos para poder hablar de temas también de civilización puede ser un instrumento muy eficaz claro está deberíamos tener el tiempo de ir a una aula informática todos juntos y realmente guiar nuestros alumnos en sus búsquedas entonces el tema del Che Guevara no lo hemos tratado pero tenemos un alumno muy bueno que realmente se va a expresar en español a un nivel B1 porque no sé qué o a mí me pasa mucho alumnos hispanohablantes que no estudian el español como lengua extranjera porque esto también pasa mucho yo tengo varios es decir nativos y ellos si quieren profundizar en un tema de por ejemplo su propia cultura lingüística y no solo pues ahí hay que guiarlos porque hay que guiarlos sobre cómo buscar este tipo de información pero bueno este Padlet es decir no es un Padlet de cultura hispánica era solo para poneros un ejemplo es decir ni Bárbara ni yo trabajamos mucho es decir pedimos mucho a nuestros alumnos que trabajen sobre estos temas y preferimos otras cosas por eso no tenemos este tipo de material y hemos puesto aquí este este Padlet y creo que podemos volver a la presentación vamos a volver a la presentación entonces la idea es a lo largo del curso encontrar los temas de civilizaciones y luego cómo vamos a tratar el tema de civilización con ellos pues como primera cosa es que aquí yo tengo el solo siento chicos pero tengo el solo de reglas añado temas de civilización y ahí sí que creo que tenemos una posibilidad más si lo tratamos debidamente de educación para la ciudadanía que es un tema es un tema que vamos tratando que tenemos que estamos obligados a tratar en nuestros cursos y de esta forma también podemos tratar el tema de educación para la ciudadanía según este esquema del que nos va a hablar Bárbara muy bien muchas gracias he encontrado el justo la justa esquina entonces hablamos del tema de civilización primero primer paso hay que elegir el tema elegir el tema un tema de cultura de civilización para para que sea más efectiva la exposición mejor que ser basado en el material propuesto a lo largo de la programación didáctica y aquí hay que guiar a los alumnos algunos como decía Natalia pues pueden ser capaces de presentar un personaje o un país extranjero otro en cambio pues mejor por ejemplo que traten un tema como el de la ecología que puede ser anclado a su vivido escribir un borrador esta fase va a ser súper importante porque primero las preguntas importantes son quién cuándo dónde entonces ellos tienen que hacer estas preguntas para focalizar las ideas y establecer también una jerarquía entre ellas algo que va a ser importante decir primero luego después y en una segunda fase por ejemplo ellos pueden elaborar su propio mapa conceptual marcar subrayar las palabras difíciles añadir informaciones y por ejemplo en este caso al lado del mapa podría ser útil por ejemplo recordar a nuestros estudiantes los organizadores del discurso entonces primero luego después además en cambio son palabras que seguro dentro de una situación de un diálogo de una sencilla interacción no siempre nuestros estudiantes van a organizar un discurso sino que contestan por eso va a ser importante por ejemplo retomar los organizadores del discurso y luego para preparar la exposición puede ser útil o sugerible que repitan junto con un compañero también dentro del aula se pueden organizar pequeños grupos o en parejas o también grabarse con su smartphone para poder escuchar podría ser a través de un podcast entonces van a grabar solo el audio o realizar un vídeo o ponerse frente al espejo pero de todas las formas nuestros alumnos tienen que ensayar cualquier discurso también el discurso antes estábamos hablando de Martin Luther King pues también los discursos más famosos y las han ensayado entonces es importante que haya una tercera fase para preparar la exposición y luego la evaluación es importante que nosotros vamos a incluir criterios como como por ejemplo el dominio del tema el contenido el tema que han elegido pues ha sido capaz de tratarlo de qué manera el uso de la lengua el uso de la lengua como hemos dicho coherente con un nivel a uno el nivel de interacción haciendo preguntas dentro de la interacción cómo se ha relacionado el alumno a través de las preguntas y la pronunciación la voz y el uso del tiempo eso también es algo importante hablar de algo es es el primer tema que hemos tratado luego hay que hablar con un uso de la lengua correcto y además estar dentro de un tiempo programado nuestros alumnos tendrán más o menos media hora pues en español su presentación su breve monólogo tiene que ser breve tiene que ser unos minutos y a través de nuestras preguntas podríamos llegar a siete o ocho pero dentro de lo que es el coloquio tenemos que tratar también otras asignaturas y entonces es importante decirles a nuestros estudiantes que síntesis el uso de la lengua correcto y un tema que pueda ser motivador y mejor si ha sido tratado a lo largo del curso por ejemplo coherentemente con nivel A1 hemos dicho que se puede hablar de dar informaciones o por ejemplo indicar la posición para intercambiar informaciones dentro de una interacción aquí tenemos el mapa de atracciones por ejemplo hemos presentado Barcelona o le hemos presentado una ciudad y aquí en el mapa de atracciones tenemos la ciudad y algunas simples preguntas por ejemplo ¿dónde está la estación de metro de gracia? ellos tienen que encontrar la información y darnos ¿qué líneas se intercambia la estación Cataluña? pues puede ser que este mapa se lo hemos presentado durante el curso pero dentro de una situación comunicativa real nuestros alumnos llegan a Barcelona y están en Plaza Cataluña pues ¿qué líneas se intercambia? ¿están capaces de entender el mapa y de comunicarnos que lo han entendido? ¿qué te gustaría visitar? pues estamos en Barcelona si le hemos presentado por ejemplo algunos monumentos de Gaudí o algunas plazas pues conocer su punto de vista me gustaría visitar la Casa Cataluña porque he visto una foto muy bonita y me gustaría o desde el Paseo de Gracia ¿cuál es el itinerario más breve para ir al mar? ¿cuál es la metro? ¿cuál es la línea? ¿cuántas estaciones vamos a pasar antes de llegar a la Barceloneta? ¿qué línea llega al aeropuerto? Estas son situaciones comunicativas reales donde ellos van a intercambiar informaciones y pueden añadir algo que han tratado de civilización otro tipo de mapa bastante parecido pero digamos más grande más relacionado con toda la ciudad de Barcelona y aquí puede ser indicar direcciones ¿cuánto tiempo crees que se puede tardar de la estación de Colón hasta la Plaza Cataluña? ¿por qué? ¿cuántos de aquí al mar? ¿cómo se llega de Gracia a la avenida diagonal? son preguntas simples pero son situaciones que realmente ellos en las que ellos se pueden encontrar y va a ser más satisfactorios desenvolverse y desarrollarse en estas situaciones más que contarnos por ejemplo la biografía de un personaje famoso Si me gustaría añadir algo Bárbara si podemos volver a la diapositiva no tan solo contar una anécdota es decir por ejemplo un mapa así o digamos un zoom de una zona de un barrio de Barcelona también puede funcionar para estimular la interacción oral puede ser útil trazar una línea que va desde un punto a otro yo que sé de una atracción a otra y pedirles las indicaciones que también es algo más específico y es algo que yo he visto que ha funcionado y que puede funcionar en el examen tampoco hace falta por fuerza haberlo trabajado claro que es mejor si en el examen les proponemos a nuestros alumnos materiales sobre los que hemos trabajado a lo largo de los tres años incluso y en este sentido también este tipo de material es decir un menú un menú cualquiera come este che è una pizarra di un cualquier restaurante di España può essere il prompt dicono gli inglesi il pretexto per che se dà una conversazione lo più autentica possibile può essere con una simple pregunta che pediria o sea mostrarles un menú e dire che pediria che pediria di primo che pediria di secondo di postre per bere eccetera che è un po' distinto a simular un dialogo entre un camarero e un cliente però si tiene è stato molto parecido e a partir di alli abbiamo proposto una serie di preguntas che realmente sono inherentes al tema e che possono otra vez sacar un poco los conocimientos e le competenze e le competenze e le habilità lingüistiche di nostri qual è qual è qual è il tuo piatto preferito qual è qual è il tuo che non ti gustano preferis come in casa o fuori suele pedire comida basura sabes explicar la ricetta di alcun piatto eccetera eccetera anche è un po' raro, come la paella risotto tra i secondi è un po' raro, la insalata del primo. Quindi, allì sì che si possono desarrollare anche temi culturali, però sempre intentando relacionarli con la esperienza di nostri studenti. E possiamo aggiungere qualcosa sulle anche le presentazioni. Pongamos che un studento realmente ha quedato fascinato con Frida Kahlo o Elche Guevara. Perché ti piace questo personaggio? Perché lo hai elegito? Tienen che essere cose semplici. Non possono essere, per argomentare, non possono essere cose demasiado difficili. E il rischio con le presentazioni sui tema di cultura è questo, che i nostri studenti non hanno le herramienti per contestare. E quindi non c'è molta interazione. A me ha passato moltissime volte con la típica presentazione sulle Guernica, Picasso, la guerra civil, eccetera. Pues quando intentava poner una, hacer una pregunta, estaba clarissimo que los alumnos non stavano preparati per contestare. E altra modalità che abbiamo ensaiato tanto Barbara come io è la di questi mapi, no? Para anche generare un monologo, ahi sì, un monologo sostenito, però che anche poi può integrare con alcuni preguntas e volverse più parecita a una interazione, no? Quindi, lavorare con mapas è qualcosa che, almeno io llevo anni facendo, perché normalmente suelo lavorare con podcast. È a dire, proporcionare a a misi alunos, unos mapas come este che vei, sopra il libro, la serie o la peli favorita, con una serie, no? De punti che hanno bisogno di sviluppare, e pedirli che facendo podcast. Sabrò evidentemente la ragione per la che lavoro con podcast, aparte che è qualcosa di molto, normalmente, bastante motivatore per gli alunos, però soprattutto per noi che abbiamo due ore semanali di lezione, di classe, ciò che ci permette a fare un po' di tempo, è dire, lavorano in casa, intentano lavorare sulla produzione oral, e chiaro, sta insegnando un po' poco antes, con nostri sugerimenti, eccetera, però realmente il lavoro lo facendo e poi se les corrige, no? Se les possono dare sugerimenti sobre lo che hanno grabato e si possono volvere a escuchar, e questo realmente tiene un valor añadido molto, molto. alto. Qui abbiamo un par di mapi, questo è sobre la serie, il libro, la peli, che sono temi che normalmente io per lo meno trato in terzo, o questo che ti piuttosto sia di maiore, che mi piace, che mi cuesta, intendo che reflexione un poco, perché anche in un terzo anno si trabaja sulla orientazione anche per la elezione del barcherato e tal, quindi può essere molto utile anche, se enlazano con algo, con un tema personal sobre il che lavorano, asignaturas, interessi, caratteri, come eres di caratteri, quindi, che ti piuttosto essere di maiore, come immagino nel futuro, e per termine, che mi piuttosto essere di maiore, è dire, che professione sottotitoli credo che con il tempo di ogni processo lo che sono descrittori per evaluare un po' la produzione e interazione oral, mi parecì quasi obligato questa referenza, non c'è nessun tipo di prova di lingnini lingū Syria dove non ha evaluazione collar est intentiamo poner in comune nostri descriptori che soldi utilizzando L resistance nel interazione e fare presto questo ci expensive possiamo new portar l'exam Non si può usare l'examen del terzo anno perché realmente avrà una ficha di evaluazione colectiva, di consiglio di classe, dove cada uno evalua la sua propria asignatura. Però diciamo che nel caso della lingua extranjera, anche avere una scala con dei descriptori molto semplici, dove si prendono in conto la pronunciazione, la intonazione, la maniera di parlare. Quindi tanto il dominio l'exico, morfosintattico, come pragmattico, la intonazione. Il dominio anche, hai alunos che a lo mejor si expresano molto male con una gramatica un po' così, però entiendono molto bene, interactuano di forma correcta. E quindi per il finale di questa presentazione ci ha parecido interessante intentar reflexionare sull'evaluazione e lasciarvi una ficha di evaluazione. E con questo credo che già possiamo... Ok, grazie mille a entrambe. Devo dire che ci avete mostrato un'altra prospettiva sull'esame di terza media, che è forse molto concreta, più realistica e vicina in fondo a una situazione comunicativa, un'esperienza che un adolescente in realtà può vivere rispetto a quello a cui siamo stati abituati, ecco, un po' tutti. Ricordo ancora i partecipanti che hanno qualche minuto per scrivere ulteriori domande. Io bene leggo un paio che sono arrivate, sono anche dei commentari. La prima, in vostra opinione, con solo dos horas alla settimana, come si può desarrollare meglio la destrezza di produzione e interazione oral? È difficile, no? Io credo che, bueno, le ragazze di inglese anche se chejan sempre di questo tema, perché hanno più ore, hanno più ore, hanno una più che noi. La produzione oral è la eterna, sacrificata, un po' perché ci sono molti studenti e pocate ore. Quindi, un po' il podcast, lo che diceva prima, sono un piccolo trucco, almeno per i nostri studenti, e è un medio, il del messaggio vocal, del messaggio audio, che è un po' genialo anche. Otra cosa è intentar dedicar almeno 5 minuti cada classe a una piccola interazione, perché a volte veramente vediamo che i nostri studenti stanno perdendo, non stanno molto bene, non stanno acostumbrati. Siamo a parlare, parlare in pubblico, quindi 5 minuti al final della classe, fare le nostri punti domande o lasciare anche 5 minuti per che uno dei esercizii di interazione dentro della unità lo puoi realizzare. Se lo facciamo a fare poco a poco, a lo largo dei tre anni, sicuramente hanno desarrollato più questa abilità e i vanno a essere un po' più preparati. Quindi, se lo podcast e a través di piccoli gruppi o anche con il compagno che ci sono al lato. 5 minuti, molto poco, però va a essere una pratica molto utile. Vale, grazie. Seconda domanda. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Otra comprensione scritta, otro examen scritto, va a essere un po' a reproduzire lo che già abbiamo fatto, lo che abbiamo fatto dentro del corso. Quindi, questo è il mio punto di vista, non so, Natalia, tu che opinas? Sì, 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 io credo che, per la mia ragione, due ore a la settimana, una a una come livello finale che bisognava avere, credo che realmente, e anche guardando tutti gli scrittori sui currullo verticali di lingui extranjero in la scuola secundaria di primo grado, i piccoli texti che si dovrebbero capire scrivere sono veramente molto semplici. Rienare un formulario. Exacto, una posta, scrivere una posta, no? E cose per il stile. Quindi, mi sembra molto più interessante che i nostri studenti possano interagire in forma oral. Altra questione è che in l'ultimo anni, bueno, antes del Covid, però credo che solo sono due anni, no? Di la nuova modalità di la prova scritta che si sviluppa il stesso giorno della prova di inglese. E questo mi parecì, ademais, qualcosa abbastanza mal pensato, diciamo, no, no, non mi chiedo, però... E per i studenti è veramente molto estressante, e per che? Non le veia molto. Per che, soprattutto, sì, sì, sì. Sì, 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 comunque vi riporto che molti hanno trovato l'incontro molto utile, quindi, insomma, mi sposo la loro opinione. Vi ringrazio ancora, ringrazio ancora tutti i partecipanti, e spero di rivedervi in qualche altro webinar. Va bene, grazie a tutti per aver partecipato, perché, insomma, sono le cinque e mezza, e dopo una giornata di scuola non è semplice, quindi... Apprezziamo. Buon esame a tutti, chissà come andrà quest'anno. Manca sempre meno, Giulio, tenete duro. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti.